Sindaco, di fatto passata una settimana da quando Ferretti ha annunciato ufficialmente il suo disimpegno e quindi aperto la crisi societaria dell'Arezzo, che bilancio possiamo fare ad una settimana da quell'annuncio? Lei si sta impegnando anche in prima persona. Il bilancio per adesso è negativo, nel senso che non si è chiuso niente, quindi non ho portato nessun risultato. Non è completamente negativo perché di soggetti economicamente rilevanti nella nostra città, disposti in varia forma a contribuire e a sollevare la società dalla situazione in cui si trova, ne ho conosciuti, ne ho trovati e do un loro informale impegno, anche se tutti quanti più o meno si sono mostrati disponibili, ma non ad entrare nella società quanto piuttosto a sostenerne le sorti attraverso forme di sponsorizzazione esterne alla società. Quindi sembrerebbe che quello che io chiamavo il piano A, cioè quello di costituire una cordata di imprenditori che entrino nella società rilevandone il capitale sociale, di fatto non sembra possibile portarla in fondo, se non attraverso una compenetrazione di questo schema con quello relativo a quello che ho sempre chiamato il piano B, e cioè rivolgersi a imprenditori non della nostra città. Il discorso è aperto, quindi non si è ancora chiuso, ma è aperto, e diciamo che io ho una qualche ragionevole fiducia di poter portare comunque in fondo questo risultato. Poi se non ci arriveremo vorrà dire che non ci sono i presupposti per. A proposito di piano B, sono usciti anche alcuni nomi, si fa con maggiore insistenza quello di Di Matteo, è un nome che lei può confermare? Guardi, io come non ho confermato e non faccio i nomi degli imprenditori retini che hanno dato disponibilità, non lo faccio nemmeno per l'imprenditore che non viene da Arezzo, perché in questo caso, l'ho detto in più di un'occasione, la riservatezza è fondamentale, il riservo è la chiave sicura di Vittoria in un processo complicato come questo. Mettersi a far nomi, soprattutto indispettisce chi si trova riportato sui giornali o nelle interviste e non ha dato autorizzazione evidentemente a fare il suo nome se non l'avrebbe fatto direttamente. E poi fa capire come l'ambiente sia in qualche maniera troppo eccessivamente nervoso e avito di notizia. Qui quello che conta non è la notizia, è il risultato. La notizia avverrà, a me dispiace per voi giornalisti, lo so che cercate sempre di ottenerla prima degli altri, ma avverrà per tutti e nello stesso momento, quando io spero si potrà fare una conferenza stampa per annunciare che il caso è risolto, non prima. Devo anche dire però che quello che io ho chiamato il caso B e che proprio in Consiglio Comunale ho indicato come una soluzione di ripiego e tale è, perché se l'imprenditoria aretina nel suo complesso non riesce a chiudere da sé il problema, un qualche problema nella imprenditoria aretina si configura. Però dall'altro se vogliamo, io sono di quelli che vedono sempre il bicchiere mezzo pieno, vuol dire però che se un imprenditore non aretino trova un buon motivo per venire a spendere soldi ad Arezzo nella sua squadra di calcio, che è uno dei simboli della città, vuol dire che la città ancora è appetibile. Proprio in questi giorni Arezzo ha ospitato Gold Italy, una fiera internazionale della gioielleria Medinitali, le chiedo se è stata anche l'occasione per sondare il terreno rispetto all'Arezzo Calcio. Le dirò che sì, la risposta è sì, al contrario, cioè non sono stato io a cercare le persone, non sono state le persone a cercare me. Mi trovavo per l'inaugurazione, per cui in più di uno mi hanno avvicinato per chiedermi come andavano le cose e per dirmi, volando alto alto, o se c'è bisogno mi faccia uno squillo. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è attenzione al tema. Ha sentito Ferretti in questa settimana? No, mi aspettavo una chiamata che non è avvenuta, sicuramente avrà i suoi problemi, il Presidente, e quindi aspetto che si faccia vivo e prenderò volentieri un caffè con lui. Devo anche dire che il mio sentimento nei suoi confronti non è negativo, nel senso che lui quel che poteva fare ha fatto, credo che di denaro sull'Arezzo ce ne abbia messo. Poi ora lui è in difficoltà e quindi ha esternato in maniera pubblica questa sua volontà. Io l'unica cosa che ho rilevato e che un pochino mi è dispiaciuta è che magari me lo poteva far sapere prima, l'ho dovuto leggere sui giornali, però è anche vero che gli effetti non ci si conosce bene, quindi lui non poteva sapere che se io piglio un impegno di non parlare, voi giornalisti lo dovreste sapere bene, non parlo. E quindi ritenendo che nell'ambiente calcistico tu dici A e il giorno dopo ha preferito tenersela dentro e darla diciamo in maniera pubblica in una conferenza stampa a sta notizia. Però ecco, penso che prima o poi ci vedremo e faremo dei chiacchiere. Con i studi abbiamo Andrea Riccioli, vicepresidente dell'Arezzo e direttore generale che proprio in questo momento sta gestendo per conto di Ferretti questa crisi societaria. Voi vi siete ovviamente anche incontrati. Che messaggio vuol mandare e qual è in questo momento anche il suo rapporto con Riccioli rispetto alla gestione di questa crisi? Il rapporto è corretto. La raccomandazione che gli faccio è quella di pensare seriamente al destino dell'associazione sportiva, della società. Tutto il resto conta molto poco perché è inutile salvare la valigia se la nave affonda. Questo è un messaggio subliminale ma penso che si capisca dove voglio andare a parare. Grazie a tutti.